C'è nessuno che ha avuto questo tentù per correndere, è un testo. Non ho mai conservato un posto per più di sei mesi. Ma sapete, è un rey, è un rey a vita. Non lo impegno, non lo impegno, non lo impegno, non lo impegno. Capito. La sola non vuoi da qui di andare. La sola non vuoi da qui di andare. La sola non vuoi da qui di andare. Siamo arrivati maestra, vostra nuova casa. Come va in questo spazio? Scusatemi, Sir Sedek, il suo maestà è qui. Molto bene. Sto per fare il suo ingresso e il nostro illustri sovrano. Grazie. 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 Grazie.